ore 9 27 giugno 2011 ritorna la terra dei fuochi sono quattro in contemporanea qui se ne vedono tre qua ce n'è un altro e qui c'è ancora un altro i posti sono sempre gli stessi in questo momento ne assistiamo addirittura c'è anche un quinto che sta uscendo due tre quattro e cinque si sta ritirando quindi l'immondizia a napoli e non potendola più nascondere in essa la terra di fuochi che accoglie i rifiuti tossici d'italia prima nel proprio terreno e oggi attraverso il ruogo vengono smaltiti i rifiuti tossici provenienti da tutta italia terra dei fuochi 27 giugno 2011 ore 9 ma 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 ma